dopo aver sclerato l'ultima volta con il livello cime alberate si cime alberate andiamo a fare il livello facile facile volo sfrenato almeno finora i voli erano tutti quelli più semplici continuiamo con il nostro design spyro tutto nero con gli occhiei da sole e la testa piccolina che fa sembrare il corpo gigantesco ok iniziamo da questi si ho già perso ho già perso ah si sono proprio andato a casaccio e contemporaneamente ci devono fare sia se uno che l'altro non ho visto se ho finito nooo ma non così mancarli ecco ok ho parlato troppo prima di iniziare questo livello vediamo se ha più senso fare così anche se finora contemporaneamente due non te li facevano mai prendere ok uno è finito non c'è più nessuno e vabbè però ma dove devo andare ho addirittura due insieme qui dove vado dove vado si proprio random qua anzi con molta probabilità c'è un senso ma io questo senso non l'ho colto probabilmente dove devo andare no dai ma c'è anche roba qua sopra no vabbè ci riproviamo dai vado giù impicchiata riuscirò a trovare l'aereo in tempo dai vado che lento che va quello che dicevo prima no no ho sbagliato vado che non mi piombi adesso dal nulla no ma no ma no ma no ma no ma mi ha investito quello ma mi ha investito quello dov'è la polizia quando serve allora sicuramente il volo più difficile è finora nooo però l'ho mancato ok 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 ci siamo qui dimmi ci siamo no andiamo di qua di qua c'è la parte dove c'è l'ultimo baule spero di aver preso gli altri si qui ci sono gli archi siamo agli archi prima di tutto dai manca l'ultimo dov'è dov'è quel maledetto si 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 trofeo guadagnato è ora che io voli manco fosse il primo livello in cui voliamo no no usciamo arriviamo a 7500 diamanti come al solito se il video vi è piaciuto lasciate un grande like iscrivetevi al canale ed attivate la campanellina e noi ci vediamo al prossimo video ciao